siamo nella villa dell'amore di monte grotto vedete la c'è l'alto piano di asiago e di qua non so se riesce a vedere c'è il santuario di monte grotto con la si vede nel paloma e con un sedice allora che spettacolo di panorama che c'è su questo monte questa è la villa molto suggestiva ecco qua si può vedere ecco questo è Padova, monte grotto, monte sedice e altri paesi sottofondo si sentono sottofondo si sentono un giame così un giame così un giame così